Eventi e sensazioni si intrecciano in un disegno arcano, come voluti da una regia celata tra le stelle, un mosaico di destini che si compone sotto lo sguardo di molteplici voleri, rendendo ogni coincidenza o apparente casualità un capitolo di un racconto ben più ampio e misterioso, quasi come se diverse forze dell'universo congiurassero per tessere insieme la trama della realtà e di questa vita terrena.